2, 9, 16, 23 febbraio e 1 marzo sono queste le date in cui Foiano, cuore della Valdichiana, porterà in piazza l'arte della cartapesta. È infatti tutto pronto per il via del carnevale più antico d'Italia, giunto con il 2020 alla sua 481esima edizione. Come del resto sono pronti anche i quattro mastodontici carri allegorici realizzati rispettivamente dai quattro cantieri, azzurri, bombolo, nottamboli e rustici che come sempre si sfideranno con vere e proprie opere di cartapesta. Il cantiere degli azzurri si presenta con il carro dal titolo La lingua volgare, il cantiere bombolo invece con Scacco al re. Il cantiere dei nottamboli mette in scena persona, falsità ed ipocrisia. Il cantiere dei rustici con il carro dal titolo L'altro mondo. Sempre domenica 2 febbraio torna l'appuntamento anche con il carnevale dei bambini di Rigutino con sfilate di carri allegorici, trenino express, limousine, coriandoli e truccabimbi. A Castiglion Fibocchi invece si inizia domenica 9, poi si prosegue il 16 febbraio con le splendide maschere barocche dei figli di Bocco, manifestazione giunta alla sua 24esima edizione. Il borgo medievale sarà così colorato da oltre 200 figuranti. Divertimento e festa con i carri allegorici anche nel capoluogo ad Arezzo, domenica 9 febbraio, 16 e 23, torna il carnevale a Rettino dell'Orciolaia che quest'anno cambia sede. Grazie all'accordo con la società di basket, Scuola Basket Arezzo, le sfilate saranno nel parcheggio del Palazzetto delle Caselle. Ma non solo, il carnevale dell'Orciolaia ha anche deciso di spostarsi nel quartiere di Saione. Lo farà sabato 22 febbraio, quando grazie anche alla collaborazione di Confesercenti, Piazza Zucchi si trasformerà in un grande carnevale.